Se hai la testa un po' confusa, il tuo cuor non so... Attenzione alla prima posizione ragazzi, c'è una sorpresa Ecco, è oggi lo spintero L'oroscomo scomposto di Beppe Channel Buongiorno da Beppe Channel Ascopio ritardato Ecco lui, la classifica dei tre segni sfortunati di questo Mercoledì 29 maggio In questa posizione gemelli Salute, anche se ci vedete benissimo Ma vedete di non rompere sempre le palle a tutti In seconda posizione cancro Avete bisogno di una vacanza tranquilla Luogo consigliato centro commerciale Il sabato pomeriggio verso le 18 In prima posizione leone Basta con spese pazze Il prossimo lunedì Il vostro conto in banca piangerà Ma quando vedrete l'estratto conto questo lunedì Piangerete anche voi Sì Proprio perché lunedì Sarà il peggiore lunedì della vostra vita Ecco E da Beppe Channel Solo un bastardo lo so A domani Con il pipistrello Di Antonio Manganillo Sì Per la classifica Dei tre segni Più sfortunati Bene Ciao Ciao